Un punto di riferimento per la nautica del centro-sud, 100 espositori, 150 imbarcazioni in mostra, 80 marchi della nautica nazionali e internazionali presenti. Torna il BOT Show alla sua quinta edizione. Fino al 10 ottobre sarà possibile visitare il Salone Nautico organizzato da Marina D'Arecchia a Salerno. Sicuramente un segnale importante è la quinta edizione, quindi abbiamo negli anni sviluppato questa presenza a Salerno in maniera molto importante. Il Salone quest'anno cresce ancora di più, sta assumendo una veste importante, peraltro in collegamento con l'industria nautica nazionale, quindi in continuità con il Salone di Genova, che è comunque il salone più importante non soltanto d'Italia ma d'Europa, perché il concetto è fare sistema e fare rete, non è soltanto un'affermazione di principio. Stiamo facendo sistema nella nautica perché così Salerno sarà inserito in un ambito, in una visione molto più allargata. Io credo che possa recitare un ruolo importante proprio nella nautica e nel mezzogiorno d'Italia. Una manifestazione che contribuisce a far crescere i numeri già positivi del settore nautico, come ha spiegato il presidente nazionale di Confindustria Nautica Giovanni Acampora, che ha chiarito come la campagna sia la seconda regione d'Italia per numero di imprese iscritte nel settore dell'economia del mare, una realtà davvero importante che occorre spingere con eventi come il BOT Show.